Un weekend di impegno al centro commerciale L'Aquilone che è stato il fulcro di diverse iniziative a sostegno delle donne e delle persone con disabilità. Due flash mob, il primo dell'associazione Donne e Sorelle dell'Aquila, che ha ricordato le vittime dei femminicidi con il loro nome e palloncini scoppiati all'unisono, ricordato anche il gesto di richiesta di aiuto con le mani che tutti devono conoscere. Nella giornata successiva invece Mob Dance 2023 è stato dedicato ai 40 anni di special Olympics con il team aquilano che ha scelto L'Aquilone per celebrare il loro compleanno con un momento di danza piena di energia. Siamo stati davvero contenti di poter accogliere anche quest'anno l'iniziativa di espressioni del territorio e il loro impegno contro la violenza alle donne. Questo weekend molte persone hanno frequentato il centro commerciale e quindi il nostro messaggio, il messaggio dell'associazione è arrivato a loro. È un messaggio molto importante perché è un dramma che continua purtroppo a crescere invece che a diminuire e il centro commerciale ha questo potere di poter arrivare a molti e questo è un potere che viene messo a disposizione del territorio. Maldito! 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 Maldito!